Benvenuti a Contrapunktum, la vostra destinazione principale per analisi e approfondimenti geopolitici approfonditi. Un talk show con Ernesto Taveri e Nico Stino. Benvenuti in un'altra puntata, in un altro episodio di Contrapunktum, sempre con l'ospite Ernesto Taveri, che poi non è neanche ospite e diciamo è il socio di Contrapunktum, è proprio il punto centrale di Contrapunktum. Ciao Ernesto. Ciao Nico, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Bene, abbiamo un più 44% letto appena fa, non è un rendito, non è una performance, non è una cosa positiva, ma di cosa si tratta questo più 44%? Guarda, gli italiani sono estremamente fortunati, sono fortunati per modo di dire tra virgolette. C'è stata una ricerca di altro consumo dove ha verificato che dal 2019 ad oggi i prodotti alimentari, la media di prodotti alimentari, il famoso paniere, il famoso cestello, carrello alimentare, è aumentato del 44% come costo. E la cosa è abbastanza pesante, se si pensa che la cosa continua, per cui c'è solo l'anno scorso, è aumentato quest'anno rispetto all'anno scorso, è aumentato del 13%. In questo momento si sta prospettando e tanti prospettano un aumento molto considerevole delle patate, per cui specialmente i tedeschi dove, ecco, cartofen è una cosa che si mangia abbondantemente, ecco, avranno questa ulteriore tassa, chiamiamola così perché io queste le chiamo tasse. Dite ma è un fatto fortuito, ma insomma tante spese potrebbero essere fatte per migliorare l'agricoltura, per dare degli aiuti per i canali di irrigazione, che non vengano fatti disastri, che non ci siano problemi alla fine che ti portano i prezzi dell'alimentare a cifre astrosferiche. Ecco, questo qui è un po' il tutto, ma sai, in questo momento si coltivano aziende di armi, perché pare per questo giuridizio. Sì, sì, infatti, ma le paghe sono anche aumentate dal 44%, giusto? Sono aumentate cosa lì? Le paghe, i salari, i stipendi. Sicuramente, sicuramente, quando uno sogna di notte e vuole fare dei sogni piacevoli, ecco, una volta si sognavano i paradisi equatoriali sulla spiaggia con una bella ragazza, con una bibita. Adesso si sogna che minimamente questa benedetta inflazione venga coperta e venga limitata, cosa che è praticamente impossibile. Ecco, questo è il nuovo paradiso, credere in uno Stato, sperare in uno Stato che possa essere tale e non un qualche cosa di provvisore. Il motivo perché è aumentato è per Putin, per Zelensky, per l'autolettrica? Cos'è il motivo delle patate che sono? Ovviamente, guarda, ormai penso sia con consapevolezza che stiamo prendendo un pochino tutti. C'è qualcuno che decide, fa una certa politica, fa certe guerre, dice certi concetti, ecco, tutti gli altri dietro, naturalmente questo qualcuno mette a punto quello che è il piano industriale, perché qualcuno deve guadagnarsi, ok? E allora si spinge tutti in quella direzione e tu, cittadino, devi seguire la moda, devi seguire quello che dice il tuo partito del cuore quando sventoli la bandierina e devi pagare, devi pagare perché qualcun altro ha deciso quello che è, quanto tu devi fare e quale sarà il tuo futuro. Ho parlato l'altro giorno con questo mio vicino greco che mi ha raccontato che anche in Greggia è così che, come si dice il contributo Rai, come lo chiamate voi per guardare la televisione? Ah beh, il canone Rai. Il canone, ecco la parola, mi mancava, ecco, che anche loro ce l'hanno nascosta dentro la fattura dell'elettricità, come in Italia, diciamo, e mi sembra che questo la faranno anche presto in Svizzera, così, perché lì nessuno vuole pagare più questo contributo, questa bolletta inutile che da noi costa 360 franchi, che sono 360 euro all'anno, non è come in Italia. Vabbè, ma arriveremo a quel punto lì anche noi. In ogni modo c'è una cosa che è assolutamente inaccettabile, ma veramente inaccettabile. Tu dici di fare un servizio pubblico, ma di fatto non fai un servizio pubblico, fai un servizio per sostenere un'ideologia, per sostenere i partiti. In queste ore in Italia c'è stata una discussione che non finiva più, perché? Perché i partiti dovevano nominare i propri responsabili, i propri riferimenti all'interno del Consiglio di Amministrazione RAI. Presidenza e Consiglio di Amministrazione RAI, che sono quelli che determinano la linea politica della testata RAI. E allora lui dice, ma io sono obbligato. Tu hai fatto la furbata di un'altra volta mettermi le mani in tasca, mettermi le mani in tasca forzosamente, imputando questo costo all'interno di un qualcosa a cui io non posso rinunciare, che è la bolletta perché fruisco di elettricità. Per cui è stata doppiamente... Ma nonostante c'è un'altra cosa, Nico, che per me è semplicemente disgustosa, e sono i famosi aiuti all'editoria, i soldi ai giornali. Giornali che sarebbero già falliti non so quante volte se avessero dovuto campare dei soldi guadagnati per meriti, cioè io ho un'informazione che è corretta, o non ho indirizzo in sorta, sono aperto, tu ti puoi fidare di me. No, giornali non ci si può fidare dei giornali. Quando questi hanno sovvenzioni da parte dello Stato e stanno in piedi alcuni giornali, addirittura piccoli, microscopici, inesistenti, solo grazie a delle sovvenzioni che vengono date dallo Stato. E noi abbiamo visto durante la pandemia quanti quattrini sono stati dati ai giornali perché venisse portata avanti una certa logica governativa. E attenzione, quelli sono i nostri soldi, sono stati pagati con i soldi degli italiani. Allora, questo è inaccettabile. Tu sei sul mercato, se sei sul mercato devi guadagnarti il consenso, devi guadagnare con la tua professionalità l'acquisto della copia del tuo giornale. Non grazie a una casta politica o a dei governanti che in funzione di certe linee, in funzione di certe amplificazioni che vengono date, tu vai avanti ad avere delle sovvenzioni, attenzione, di quattrini presi dalle tasche degli italiani. Allora, quella cosa lì della fattura con il canone abbinato era un'idea di Renzi, giusto? quando un giorno, non so, stava lì nella camerina con quella bruschetta, come si chiamava? Ah, guarda, non parlarmi di quelle robe lì che proprio io no, quelli che sono il gossip per me è zero perché di fronte alla sofferenza di quello che mi stanno facendo il gossip possono andare, possono fare quello che ne hanno voglia, non è una scusante, io dico sempre, il gossip non è una scusante lo usano per attaccare, lo usano per attaccare, invece dico il contrario, non è una scusante il gossip è quello che fanno i publici. Il fatto è che siccome era tanto amato, forse ancora oggi, Renzi, sai, lo vedevi là con la Jack in pelle, ti ricordi, era da amici, via vai, si voleva fare vedere che era figo, è tutto giovenile insomma, che stava con il popolo e dopo lì dà questo come regalo il canone dentro il bolletto dell'elettricità, nella fortuna. Ma questo è niente, questo è niente Nico, l'articolo 18. Anche. Allora, lui ha smaltellato, smaltellato, uno stato di diritto di tutela dei lavoratori, ma proprio fatto secco ha creato, ha istituzionalizzato la precarietà. E attenzione, abbiamo visto i sindacati noi fare le barricate, adesso dico ma aspetta che facciamo un referendum per abolire, ma Landini che credibilità può avere? Allora dov'era? Allora dov'era quando veniva smaltellato un certo stato sociale, una certa garanzia. Ma sai Nico, hanno creato le tutele crescenti, no? La prima botta di Renzi, avete visto? Avete visto che aumenta l'occupazione? Aumenta l'occupazione? E per forza aumenta l'occupazione. Le tutele che c'erano prima ai lavoratori sono state tolte d'amblè e vincolate a delle durate di tempo. E allora l'imprenditore dice sì, sì, io faccio imprenditoria, mordi e fuggi, questi qui a casa. E tu chiediti perché, tante banche, perché noi sappiamo che le banche vogliono il bene dei cittadini e sono sempre disponibili per i cittadini, ecco, e hanno avuto a cuore e tanta disponibilità che se dovevano dare in fido a un giovane che era stato assunto con quei contratti lì, ecco, chiedevano che cosa? La firma del papà pensionato o se aveva qualche soldo a garanzia del giovane che chiedeva il mutuo. E noi siamo arrivati a quei punti lì. Ma tu hai sentito la rivolta della gente? Ma tu hai sentito qualcuno difendersi? No, perché è come questo mio amico in Grecia mi ha detto, anche lui ha chiesto in giro ai suoi amici, ma a voi vi sta bene questa cosa qui? E loro hanno detto, cosa ci possiamo fare? Ormai è così, noi paghiamo e non ci possiamo fare niente. Questo è il, diciamo, il 95% la pensa così su questa cosa qui. Certo. E perciò andiamo avanti con le patate e il 44% in più, che mi fa ricordare un'altra cosa a me, se parliamo di patate, mi fa ricordare a me a Biden. Cioè per me è come una patata Biden. Cosa ha combinato Biden? A Biden sta portando avanti la linea che è stata ordinata da quelli dietro, sta andando avanti, guarda le dichiarazioni che sono state fatte con il personaggio di Hollywood, di Bollywood, no, Bollywood no, è un po' meglio, no, Zelensky che è là negli Stati Uniti, questo signore è andato un'altra volta a batter cassa, i contribuenti americani che hanno ben presente certe scene di certe città americane, di New York, di Detroit e da altre parti, dove vedi la gente buttata per strada per non parlare della magnifica Los Angeles, dove la povertà la puoi vedere, ecco naturalmente lui ha preso 7.9 miliardi di dollari dalle tasche degli americani per darle a questo signore, va bene, o perlomeno darle a certe aziende americane che producono armi, giusto, va bene, per l'aiutino, insomma. Ecco questo è quello che è successo. In più che cosa ha fatto? Ha convocato, sai che sono le ultime, si parla di cosa, 40 giorni circa per le elezioni americane, perché in un certo momento stiamo arrivando al dunque e lì è l'altra situazione pericolosa che noi abbiamo. E allora cosa ha convocato? Questi 50 stati che sono tutti uniti, belli, bravi e forti, va bene, allineati in copertura per aiutare l'Ucraina, ha convocato questo ultimo incontro praticamente in Germania, in un summit, non so esattamente dove, probabilmente perché hanno anche decretato di avere una zona nato particolare in Germania dove fanno queste cose, per andare ulteriormente a discutere, andare ulteriormente a far cosa? A ipotecare, cioè a dire questo è il punto per cui siete, io vado via, però la linea va avanti perché deve essere portata avanti indipendentemente da chi è che viene eletto come presidente, perché i dati sulla Kamala Harris in questo momento, dopo tante bufale, stanno cominciando a essere un po' più reali, cioè sta venendo fuori che questa signora, ecco, probabilmente non ce la farà. Quindi stati in bilico sono pro-Trump. Guarda, a proposito di Trump, l'altro giorno ho avuto una discussione perché avevo detto che Trump non ha mai iniziato una guerra quando lui era presidente, invece Obama e tutti gli altri, vabbè, lasciamo perdere. Comunque uno mi ha scritto sì, non ha mai iniziato una guerra, però ha armato, diciamo, l'America, cioè ha fatto produrre dei armi a go-go, e ci ho detto, e poi io ci ho poi risposto sì, perché per lui American first. Una cosa è produrre degli armi e un'altra cosa è usarli, questi armi. E poi darla alla gente che non neanche li sa usare. Ecco, ma, guarda, vedi, c'è da stare attenti a volte, perché salta in piedi il tifo, no? Salta in piedi il tifo da parte di qualcuno. Allora, chi ti fa di qua? Trump è un sovranista. Trump è una persona che cura gli interessi del suo paese. Punto. Dall'altra parte, i concorrenti di Trump non curano gli interessi degli Stati Uniti, curano gli interessi di determinate lobby finanziarie, economiche, commerciali, trasversali, mondialiste, dove gli Stati Uniti sono solo la necessità per andare a reperire voti e cercare di reperire consensi. Consensi che devono arrivare in tutti i modi. Vedi Kamala che sta spingendo per far votare questi clandestini che sono su territorio americano in questo momento. Perché? E dice, sono qui, questi qui li dico, li prometto, ti do la cittadinanza, ti faccio votare, in più ti do anche il sussido di disoccupazione dove stai qua senza fare un cavolo di niente? E allora capisci che lì è tutto orchestrato, è tutto preparato. Trump invece è un sovranista, dice no, la prima roba che io voglio fare è vedere di quante persone hanno diritto di stare qui e quante no. Quelle che non hanno diritto di stare qui devono tornare, devono andare via. E infatti vedi che il Papa l'ha paragonato tra le persone cattive come la Kamala Harris che vuole l'aborto all'ottavo nonno mese, sullo stesso piano l'ha messo. perché giustamente bisogna avere questo spirito. Ecco, gli altri stati fanno i loro interessi. Allora, i cinesi fanno i loro interessi, i russi fanno i loro interessi. Siamo solo noi italiani che dobbiamo piantarla di fare i tifosi e di avere delle classi politiche che si arrufianano o di qua o di là un po' di dignità e trattati in funzione di quello che serve al popolo italiano. perché noi non stiamo vedendo operare per l'interesse del popolo italiano. Noi, è più tutelato in Italia Zelensky che gli italiani in questo momento. Giusto. Perché Zelensky li molla armi e li molla sovvenzioni e li molla cose la signora Meloni. Va bene? Andando avanti con la linea impostata da Draghi e dalla sinistra prima. Ah sì. Questo ha avuto l'audienza con la Meloni di un'ora Draghi che poi lui è un ex panchiere vabbè che era politico, va bene era anche un presidente però cosa c'entra ora lui che funziona a lui per incontrare la Meloni per un'ora. E' uno di quelli che conta e di quelli che conta a Bruxelles e quelli che sta facendo il piano per la von der Leyen che gli ha dato un incarico di vedere come rilanciare l'economia europea e quello che intende mettere in pista dei bond europei cioè togliere dei quattrini e piazzarli lì per che cosa? Per l'investimento del green per l'investimento di certi cambiamenti in tutta l'Europa. Per cui è una potenza questo signore perché ha un controllo e dei riferimenti finanziari che sono quelli che di fatto condizionano la von der Leyen condizionano o perlomeno la von der Leyen è su quella linea lì e di conseguenza la Meloni è sulla linea della von der Leyen chi è sulla linea dei popoli e degli italiani? Non abbiamo nessuno perché vedi non è questione di tifare Trump Xi Jinping o Putin è questione in questo momento di vedere noi italiani che abbiamo uno tutta la convenienza a non avere una guerra due ad avere un discorso di pace per comprare materie prime in posti dove sono competitivi perché se tu ti è proibito comprare a due da una parte devi comprare a dieci dall'altra è normale che le tue aziende chiudano che perdano di competitività e che non si vada da nessuna parte questo è irregolare cioè non fa una piega ora si tratterà di vedere un attimo come si evolve questa situazione come si evolve col discorso Trump eletto io ho grossissimi dubbi l'ho detto anche prima in privato che si arrivi alle elezioni di Trump perché ho notato questa settimana un'accelerazione un'accelerazione per uno scontro diretto per un conflitto mondiale si infatti stanno facendo di tutto per non farlo non farlo proprio mettere in azione forse faranno anche lì un governo tecnico come hanno fatto in Italia forse vogliono raggiungere questo questo è il punto di loro sai che mi è venuta un'altra cosa in mente lo sai che Vasco Rossi aveva venduto sette volte San Siro per il suo concerto e mi sono chiesto se faremo un concerto per i tuoi diritti lottiamo per te lottiamo siamo qui per noi quante volte si potrebbe vendere San Siro diciamo quanto pubblico possiamo aspettare in un concerto di questo guarda io ho avuto una brutta una brutta esperienza in questi giorni ed è un'esperienza di un tornaconto proprio nella mia realtà nel mio paesello ho posto un articolo su quella che è stata la scoperta che hanno fatto a Roma l'università di Roma approvata dal comitato etico dove hanno deciso di aprire uno studio per quelli che sono il cambiamento di sesso dei bambini dai 4 ai 15 anni si l'ho letto allora io sono partito in quarta perché ritengo che i bambini abbiano bisogno del loro sviluppo naturale per sviluppare la propria sessualità e gli adulti non debbano metterci mano più di tanto in questi giorni girava un'immagine di un bambino francese bambino diventata bambina di 6 anni allora tu sei in grado stato di consentire una cosa del genere tu genitore noi genitori di consentire una manipolazione del genere in un'età così giovane di un bambino allora ho postato questo su una pagina locale e cosa è successo è successo che circa 12-13 hanno detto che era una cosa giusta questa bisognava fare questo qua questo studio in ogni città d'Italia al fine di limitare le violenze che venivano esercitate dai genitori e dai nonni per educare i bambini a questa impostazione 12 hanno eh sì bisogna essere sensibili bisogna capire la tendenza di qui di sedia altri 7-8 uno ha detto oddio alziamo le mani cioè questa roba qua è bruttissima il mio post diceva cominciate a difendere i vostri bambini sai che io da amministratore vedo chi legge sai che ci sono state mille e seicentocinquanta persone che hanno letto il post senza dir niente e non hanno commentato mute allora questo è lo specchio di quello che può succedere in Italia nel preciso momento che abbiamo come c'è stato fatto una violenza costituzionale per il discorso del covid chi si muove sono delle strette minoranze e lì non c'è nessuno e lì non c'è nessuno che ci mette la faccia anche per le cose più care come può essere la cura di un nipote di un figlio a fronte di iniziative del genere mille seicento e passa persone che hanno letto l'articolo sono state lì a guardare e nessun commento e dice oh mica mi posso esporre allora se noi abbiamo una società che non si espone per i propri bimbi per le proprie per il proprio futuro cosa pensiamo possa essere nient'altro che delle pecore gestite che l'importante è che si beli tutti allo stesso modo e chi bella di più è quello più bravo e nel contempo finisci che ti rasano perché ti tirano via il manto e seconda finisci al macello questo purtroppo è il destino del popolo italiano ma non solo del popolo italiano possiamo anche su altro parlare di telegram di quello che è successo telegram è successo che questo signore l'hanno arrestato ha lasciato cauzione di qui di sa e di là alla fine dice ma no guardate facciamo una cosa come non detto io dovrei essere segreto e roba del genere notizie dei giornali dicono che metterà a disposizione tutti gli IP di coloro che hanno che hanno chattato su richiesta su richiesta e allora cosa dici e dici vabbè allora è stato venduto un prodotto in questo prodotto c'era la massima discrezionalità e non ti potevano venire di niente per cui tu potevi anche esprimerti intendiamoci il malaffare se c'era malaffare va combattuto non ci sono scusanti di sorta ma questo discorso di privacy e discrezionalità dove è finito zero infatti ora parliamo solito della Cina perché il tempo stringe abbiamo ancora 6-7 minuti ecco Cina cosa sta succedendo stanno andando avanti come dei treni per cui alla fine è questo ma la cosa preoccupante che a me preoccupa è che stanno spingendo la Cina in tutti i modi a prendere posizione e a essere sempre più unita alla Russia iniziando anche dei discorsi di tipo militare ci sono state delle esercitazioni dei drill che sono state fatti in prossimità della verso la Corea da quelle parti e nel contempo i cinesi dopo che 40 anni 40 anni non avevano mai fatto delle esercitazioni missilistiche militari hanno cominciato nel Pacifico a testare questi i CBM che sono dei missili molto potenti intercontinentali e capisci che anche lì si sta innescando si sta innescando un malessere che è qualcosa di bestiale un malessere che è qualcosa di bestiale la Cina poi nell'attacco sai che sono andati in Cina per farsi produrre le macchine elettriche e quelli sono bravi a produrre anche Mr. Tesla è andato là e ha delle produzioni là e questi sono partiti naturalmente l'Occidente che era tanto impegnato a dare i quattrini a Zelensky e a creare confusione e ad armarsi non è andato avanti allo stesso livello i cinesi sono arrivati e per cui i cinesi stanno invadendo tutti i mercati e allora in quel momento coloro che sono impegnati a dare armi al signor Zelensky per cui non hanno quattrini per supportare le proprie aziende e cosa hanno fatto? hanno detto ma aspetta un attimo darsi al 100% aspetta un attimo altra cosa noi ti andiamo a bloccare e non vogliamo che arrivi negli Stati Uniti il software per le macchine elettriche e le attenzione questa è una proposta che sta andando avanti allora capisci tutto il meccanismo di come si stanno mettendo le cose e non so non è una cosa per niente tranquilla c'è stata una dichiarazione di Shee che è stata presa da un giornale dicendo guardate che se voi continuate a tirare continuate a spingere ma noi non abbiamo problemi noi non abbiamo problemi noi partiamo in quattro e noi appoggiamo militarmente se serve a un certo momento anche i russi allora perché si deve arrivare a questo punto punto di domanda io posso solo dire che per me per conto mio siccome la Unione Europea stava spingendo su queste elettromobilità su queste macchine elettriche le macchine elettriche dove è che vengono prodotte in Cina maggior parte giusto? corretto tu vedi che abbiamo abbiamo stabilimenti di Volkswagen abbiamo stabilimenti di Audi ed altro in Cina perciò ti metti in mani ti metti in mani dei cinesi al 100% e questo è questo deciso dell'Unione Europea non è un po' sarcastico questa cosa? questa qui è Karakiri no? attenzione sarebbe Karakiri se è quello l'interesse che si vorrebbe curare ma noi abbiamo un interesse in questo momento che non è della sovranità europea che è dell'indipendenza economica industriale europea noi abbiamo in questo momento una gestione che per il business e la logica internazionale mordi e fuggi in questo momento noi non vediamo la classe politica la casta politica operare per gli interessi di un'Europa Europa è l'anello sacrificale che verrà fatto secco quando hanno consentito di chiudere mettere dinamite sul Nord Stream 2 quando è stato consentito quella tentato lì e quella logica lì e tu capisci che il discorso comincia a saltare vedi c'è una dichiarazione che è passata in secondo piano e i medi italiani e internazionali non hanno riportato c'è un parlamentare della Duma un deputato che si chiama Andrei Gurulev Andrei Gurulev Andrei Gurulev è un un ex generale dell'esercito e questo generale dell'esercito è venuto fuori in un'intervista sulla ripresa da RT e dice eh sì noi arriveremo a fornire aiuti ricordiamoci gli uti dove sono e armi e missili droni in maniera che venga bloccato quel canale di passaggio delle merci sai cosa significa il blocco in quella zona il blocco in quella zona del transito marittimo significa che viene bloccata completamente l'esportazione europea e viene bloccata l'importazione viene bloccata l'importazione va bene di certi prodotti che arrivano dall'Asia significa mettere in croce al 100% tutto quello che è l'industria l'attività il mondo europeo l'occidente naturalmente gli americani non hanno problemi hanno il giro dall'altra parte i russi non hanno problemi hanno un altro giro dall'altra parte stanno potenziando delle linee di ferroviarie che potrà portare di tutto e di più anche qui in Asia allora cosa sta succedendo stanno creando il nuovo muro dove l'agnello sacrificale sarà l'Europa gli europei va bene gli europei servi che praticamente sono quelli che andranno a smenacci di tutto e di più mentre loro consolidano dall'altra parte tutto quello che è l'attività commerciale tutto quello che è il business con l'Africa l'America Latina e via dicendo e gli Stati Uniti sono protetti nel loro interesse perché sono fuori da questa zona questo è quanto sta succedendo e in media non dicono beh no dicono dicono anzi che questa piattaforma questi giornalisti di RT sono giornalisti diciamo o una piattaforma che spara solo dei fake news in giro la propaganda siccome loro non fanno propaganda puntano il dito questi fanno propaganda perché loro non fanno la stessa propaganda dei media occidentali hai capito per cui il discorso è questo cioè uno che vuol farsi un'idea e dice io ascolto te e ascolto l'altro tiro le somme e dico sì questo qua è giusto che dice questo no è sbagliato oppure è sbagliato questo qualcosina di qua e qualcosina di là ti bloccano RT ti bloccano tutti i media che arrivano dall'altra parte perché dicendo guardate che voi dovete credere solo unicamente a noi giusto gli altri non esistono e questo è quello il mondo che ci troviamo guarda mi ha appena telefonato la Ursula mi ha detto guarda che 30 minuti stanno per passare non è che li devo chiudere stiamo con qualcosa qualcosa di allegro stiamo con qualcosa di allegro anche per i nostri amici dicono vai che cavolo qui solo purtroppo signori e quanto passa il convento allora dici che le lasceranno libere le salsicce Nico ah credo di sia perché perché saranno buoni poi anche abbiamo avuto abbiamo avuto questo Sir Kay Starmer primo ministro inglese giusto ha fatto una bella conferenza e roba del genere e ha confuso la parola hostages ostaggi con sausages salsicce e allora è venuto fuori liberate finalmente queste salsicce perché sai che per noi italiani è importante insomma anche per i tedeschi le salsicce sono importanti anche per gli inglesi ma che c'è stato qualcuno dicendo ma che cavolo dice ma se i musulmani a un certo momento non mangiano salsicce che cosa che come che cosa se ne fanno delle salsicce e questa è stata la farsa generale ecco diciamo che capita anche a quelli più bravi di sbagliare quando si è in qualche conferenza o in qualche cosa però ti ricordi anche quando Draghi si era sbagliato che ha detto o accendete l'aria condizionata o cos'è che ha detto o la guerra o una cosa del genere scegliete tra l'aria condizionata o la pace ah sì giusto o la pace vabbè o la pace hai capito l'ha detto dopo dopo sai quella è stata la versione A la versione A dove ci dicevano di non consumare energia e adesso ci dicono macchine elettriche dove non ci sono neanche gli impianti per poter far andare un parco macchine decente elettrico salvo spegnere i frigoriferi perché noi in Italia non siamo assolutamente all'altezza di poter portare avanti questo tipo di discorso ma sai è stato previsto che cosa che ci sia un aumento del 120% dei fabbisogni di energia elettrica con questa green economy sì infatti ci sarebbe anche un altro discorso dietro che meglio che non lo lizziamo perché se no i 30 minuti per sicuro saranno superati comunque grazie mille a te grazie Nico grazie grazie agli ascoltatori per i prossimi i prossimi 30 minuti saranno in due o tre giorni cioè la prossima puntata di Contrapunto desideriamo anzi vogliamo che commentate vogliamo sapere la vostra opinione perciò per favore usate i commenti la sezione e se no c'è anche su Telegram finché non ho trovato un qualcosa di meglio abbiamo anche lì un nostro canale bene allora grazie mille e grazie anche a te grazie a te grazie agli ascoltatori e alla prossima buona serata buon pomeriggio buongiorno grazie a te grazie a te grazie a te